L'ufficio diocesano per la pastorale familiare coordinato da Don Roberto Guida ha organizzato giovedì 16 giugno presso l'oratorio San Giovanni Paolo II adiacente alla parrocchia di Santa Maria delle Grazie e ad Agropoli il convegno l'amore familiare vocazione e via di santità. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del cammino ecclesiale in preparazione del decimo incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno. Come sottolinea Don Roberto Guida il Magistero di Papa Francesco in questi anni ci sprona ad essere partecipi delle esigenze, delle gioie e delle sofferenze delle famiglie. Ogni famiglia è costituita come esperienza di vocazione nell'amore per raggiungere la meta della santità. Anche la nostra chiesa diocesana vuol farsi partecipe in prima persona in questa importante responsabilità, stare accanto alle famiglie, camminare con loro, dare loro coraggio, accompagnarle con la preghiera. Non perdiamo occasione per promuovere il progetto che Dio realizza nell'amore familiare. Al convegno che avrà inizio alle ore 18 e 30 parteciperanno i coniugi Silvana e Osvaldo Santoro dell'equip diocesana della pastorale familiare, il vescovo di Vallo della Lucania, sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il vescovo di Pozzuoli e Ischia, sua eccellenza Monsignor Gennaro Pascarella e lo stesso Don Roberto Guida.